In prefettura, in occasione dello scambio degli auguri tra le più alte autorità della provincia e quelle ecclesiastiche della diocesi, il prefetto ha tirato le somme sul lavoro concluso dall'amministrazione nel 2012. Tanti i temi passati in rassegna, dalla prostituzione al gioco d'azzardo, dalla sicurezza stradale alle restrizioni riguardanti il porto d'armi. Tutte le forze dell'ordine sono state citate, soprattutto per il loro lavoro svolto con la massima cura e attenzione nel corso dell'anno. Il prefetto si è soffermato maggiormente sul problema dei diritti civili e della cittadinanza. In un momento come questo, dove, in particolar modo, in una scuola materna della città, solo un bambino su quattro italiano, dobbiamo accettare e favorire l'integrazione. Un discorso apprezzato e condiviso anche dal presidente della provincia, Claudio Casadio, dal sindaco Fabrizio Matteucci e dall'arcivescovo Monsignor Verrucchi, che hanno preso parte agli auguri di Buon Natale. Barbara Agnisci per Ravenna Web TV